Anche a Santa Caterina la rappresentazione sacra del Venerdì Santo e in tre momenti della Via Crucis alla Dio alla Scinnenza ha ripreso vita. Si riparte da una tradizione del 1933. Un gruppo di volontari appassionati di teatro hanno riproposto così le ultime ore di Cristo. Siamo un gruppo di persone volenterose e appassionate che hanno voluto portare in scena una delle tradizioni più antiche del nostro paese, la Scinnenza, che affonda le sue radici nel lontano 1933. Siamo nel comune di Santa Caterina Villarmosa, un piccolo comune in provincia di Caltanissetta. Abbiamo voluto riportare un po' di normalità dopo questo lunghissimo periodo di pandemia. Abbiamo accolto l'entusiasmo dei nostri cittadini ed è per questo che vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono messi in discussione, la consulta delle donne che ci ha dato la possibilità di soffrire dei propri locali e il comune che ha dato il contributo economico. 19 gli attori in scena guidati dalla regia di Giuseppe Mini e Angelo Bruno. Una lunga preparazione, curata nei minimi dettagli, dai costumi alle luci. L'iniziativa, sostenuta dalla consulta delle donne dal comune di Santa Caterina, è stata apprezzata dai cittadini.